Coach, cominciamo con analisi un po' generale della partita Dunque, guarda, stavo parlando adesso con lo staff di questa vittoria perché ci sono capitate in fila tre partite a livello emotivo non facili in casa con Biella persa di uno per un paio di episodi con la grande bravura anche di Biella Mercoledì a Siena, dove penso che Siena per mille motivi, anche con l'infortunio di Cappelletti aveva certamente una carica agonistica che avrebbe vinto con chiunque e noi invece non eravamo pronti e invece questa sera incontravamo Scaffati che è vero viene da un periodo non negativo ma ho tanta stima nei confronti di Giovanni e so che è un grande allenatore e pensavamo che cambiasse la squadra e penso che la squadra, intendo, Scaffati sia cambiata abbiamo visto tutti come partita però i miei sono stati bravissimi perché anche sotto di 12, mi sembra 10-12 non ci siamo mai disuniti, abbiamo avuto un grandissimo ritorno nel secondo quarto e devo dire abbiamo giocato veramente una gran difesa quando contava ce la siamo un po' complicata però a noi piace onestamente questa è una cosa che ancora faccio fatica a migliorare probabilmente complice anche la gioventù media della squadra ce la siamo un po' complicata perché secondo me avevamo un vantaggio potremmo entrare nel finale con un vantaggio diverso però è una grande vittoria sono estremamente contento e soddisfatto sia per i giocatori che per i nostri tifosi predico umiltà spesso non sono tanto ascoltato nel senso che alla fine è chiaro che il tifoso deve sognare io voglio che però questa squadra rimanga umile ho letto anche qualche commento sulla nostra, tra virgolette, crisi ma questa squadra non ha nessuna crisi soprattutto perché è molto ambiziosa però gli obiettivi nostri sono diversi e potremo ambire a qualcosa di più se continuiamo con questa grande umiltà e devo dire che questa serie di ragazzi sono stati eccezionali non mi piace di parlare dei singoli, non ne parlo mai però devo dire che qualsiasi giocatore anche quelli che hanno giocato meno e meno bene nelle ultime partite ha risposto presente quindi sono veramente tanto contento per loro soprattutto per i miei ragazzi ci sono domande? ok, grazie a voi, ciao grazie a tutti Grazie a tutti.